L'Italia dei Valori oggi ha presentato un programma di coalizione e comunque negli interessi dei cittadini, tutti i cittadini, non solo della casta. E con chi degli altri partiti ci sta intendiamo dialogare, senza aprirci a persone o a partiti che non vogliono starci in questo programma, ma senza chiuderci preventivamente e preclusivamente a nessuno. L'Italia dei Valori ha depositato quattro referendum, due in difesa del lavoro, due per abolire i privilegi della casta. Questo è il punto cardine su cui noi intendiamo costruire un'alleanza di coalizione e sfidiamo gli altri partiti a dirci per quale ragione non appoggiano questi referendum. Ieri a Vasto abbiamo insieme a Vendola e a tutti gli altri rilanciato un progetto di coalizione che mette al primo punto il programma e l'impegno di far sapere ai cittadini, prima che vanno a votare, quale programma, quale coalizione, quale leadership a loro danno il loro voto. Prendiamo atto che la legge elettorale che vogliono fare è una legge elettorale da prima Repubblica, in cui prima si chiede il voto ai cittadini e poi lo si vuol vendere al migliore offerente. Non è la proposta dell'Italia Valore, a questa proposta noi non ci stiamo.